E' uno sconto tra titani questa bellissima partita al palazzetto dello sport di Policoro Finalissima doppio maschile categoria pro Omini Rossi per Caruso Nesta contro Rossoni Placido, Omini Blu Si parte il regolamento tradizionale, una partita con regolamento a scelta Quindi si giocherà su più di un set La coppia Caruso Nesta parte con un gol avanti in quanto vincitrice del girone vincenti Quindi non ha mai subito sconfitte Rossoni Placido che arrivano dal basso, dal girone perdenti Per questa super finale con gol avanti Simone Rossoni dal 3, prova subito una frusta Ancora frusta di Simone Rossoni, intercetta dalla mediana, riparte dal 3 Regolamento dove ricordiamo a chi guarda da casa e non sa bene le regole E' possibile stoppare la palla, effettuare anche ganci per modellarsi la traiettoria della palla Basta poi mandare tutto sponda prima del tiro In questo caso chiamata infrazione Palla schiacciata, palla pinzata dal primo basso del 5 Di Nesta riparte Rossoni con una battuta chiaramente di parte I giocatori possono Palleggere la palla per tutte le volte che vogliono Chiaramente con dei limiti di tempo Espresso in secondi Vedete come Rossoni intercetta la palla alla stoppa E poi pensa Ad un modo per poter Passare avanti 1-1 con una frusta da sotto Di Simone Rossoni In questo primo set Finalissima assoluta di campionato italiano 2022 Rossoni prova una frusta centrale Trova il fuori della porta e ora Nesta Placido fa buona guardia alla porta Primo set di studio Parte con una fase A bassa intensità Nessuno dei quattro atleti vuole sbagliare E quindi Si tende a rischiare meno In questo primo set al tradizionale Riparte Caruso dalla porta E poi Simone Rossoni ancora tenta la frusta da sotto Caruso prova La strappata dal 2 Marcata da Placido e poi Nesta Chiude con una frusta centrale Non si è ben capito Che cosa sia successo Sulla riga dello specchio della porta Ma Anche dal suono abbiamo Intercettato il gol 2-1 In questo primo parziale Di finale di doppio Che vale il titolo di coppia Campione d'Italia 2022 Rossoni Bellissimo il passaggio In 5-3 Stoppa la pallina Due sponde per annullare il gancio E poi frusta dal basso verso l'alto Chiama un fallo Nesta Fallo convalidato Riparte Caruso Chiaramente è un gioco dove il 3 Riveste un sacco di importanza All'interno della partita I portieri quindi non sempre tirano Ma Il più delle volte Tramite passaggi Molto precisi E tecnici E studiati Tendono a favorire Il possesso palla Del proprio attaccante Ancora Nesta Tentativo di frusta Andato a vuoto E poi questa volta Non perdona 3-1 In questa prima parte Frust centrale parata Da Massimo Caruso E poi ancora Questa volta Anche Rossoni Non perdona Bellissima esecuzione Che porta la coppia Bruzzese A meno 1 Ricordiamo Ogni 7 La coppia Nesta Caruso parte con un gol avanti In quanto vincitrice Del gerone vincenti Rossoni dal 3 Tenta ancora La frusta centrale Questa volta Non si Esprime al meglio Ancora Nesta Frusta sul primo palo Frusta possiamo dire Alla base Del gioco tradizionale Soprattutto In relazione A questi nuovi tavoli Di ultima generazione Super performanti A sponda Ultra veloce Anche Rossoni Con un copy In colla Si porta Sul Meno 1 Con una frusta Al primo palo Ancora Nesta Prova il passatenta Al passaggio Poi tira in porta Aspetto psicologico Indubbiamente Di Enorme rilevanza Psicologia Concentrazione Il gioco tradizionale Come in tutte le specialità Ma tradizionale La mano e il polso Non devono tremare Chiama un fallo Simone Rossoni Non convalidato Dall'arbitro Simone Fabiani Il quale è super attento Dietro la telecamera Per osservare Tutti i più piccoli dettagli Tecnici E non Del regolamento tradizionale Poi Nesta Ancora Una frusta Super veloce Super precisa Questa volta In mezzo alla marcatura Nesta in possesso Chiama Il time out Può ripartire Anche con la palla In diversa posizione Come effettivamente Sta accadendo Due sponde Tenta il passaggio Rossoni intercetta E si porta la palla Giù Per il passaggio Fallo Stop e tiro Chiamato un fallo di gancio Riparte Nesta Bellissimo il gesto tecnico Bellissimo il gesto tecnico E anche il fair play Che questi quattro atleti Stanno dimostrando in campo Caruso Para la palla E Passa direttamente al 3 Di Nesta Il quale Riesce a marcare Splendidamente La fase di attacco Di Placido E chiude il sesto gol E chiude il sesto gol Per i più appassionati Vi consigliamo Chiaramente di guardare Queste partite Con occhi diversi Non soltanto Nell'ottica Dell'intrattenimento Ma Sono veramente Quattro campioni Che dispensano Ad ogni partita Preziosissimi consigli Stili di gioco Tecniche Quindi cercate di Vedere i movimenti Che fanno E magari di replicarli A casa Dopo In allenamento Tanto riparte Placido Dalla porta 7 a 3 Con un gol di deviazione Da parte di Caruso In questo Primo set Che vede La coppia Caruso Nesta Protagonista Dell'incontro E poi Placido Con un tentativo Di sponda sotto Trova comunque Il varco Della porta Sottiglie il risultato Sottiglie il gap 7 a 4 Riparte in esta Dal 5 Straordinario Possesso palla Dimostrato Da Nesta Fino ad ora Bellissimo Anche questo Il passaggio Diretto Al 5 Al 3 Prova Chiuderla Il 7 Con una frusta Centrale Parata Però Da Placido E poi Flash Da parte di Nesta Si aggiudicano Il primo set La coppia Caruso Nesta Si parte subito Con il secondo set Cambio di campo Regolamento Volo Qua siamo Decisamente In casa Abruzzese Specialità Preferita Dalla coppia Rossoni Placido Che subito Si porta sul punteggio Di 1 pari Con un bellissimo Cavalluccio dal centrale Da parte di Placido Sempre il gol avanti Alla coppia Nesta Caruso 1 pari In questo set Al volo Che promette Veramente le scintille In campo Bellissima La parata Da parte di Rossoni Maestro Insieme a Caruso Del gioco al volo In porta Veramente Due giocatori Che hanno fatto E stanno continuando A fare la storia Del calcio balile italiano E Nessa Ne approfitta Palla vacante La La riesce ad agganciare In mediana 2-1 Vedete come Cambi completamente Il tipo di gioco Prima si poteva Palleggere la palla Ora bisogna tirare al volo Si può Semplicemente Parare la pallina E tirare Quindi un gioco Molto molto più Di velocità Di riflesso Di potenza Chiaramente i giocatori Possono volontariamente Decidere Di fermare la pallina In caso in cui La palla Fosse in una posizione Scomoda O rischiosa Chiaramente Penalty Battuta Da parte Dell'attaccante Avversario Placido In questo senso Uno dei più grandi Maestri Della battuta In mediana Vedete anche La potenza Caruso Lascia la palla E Placido Chiude Con un cavalluccio Dal terzo A salire Spettacolo Due pari Bellissimo Gol di Caruso Però Chiamano il fallo La coppia Abruzzese Fallo convalidato Anche dalla Giudice di gara Fabiani Di parte Placido Due pari Prefitta Placido Caruso Parla La spiccata Ma nulla Da fare La palla Gli torna Al tre Gli sfonda La porta Un un dritto Grandi prestazioni sportive Qua dal palazzetto Dello sport In questa Finalissima Di doppio pro Un evento LHB FIGEST Partita Che vale Il titolo Di coppia Campione D'Italia 2022 Bellissimo Gesto tecnico Di Nesta Prova Un 5-3 Ma placido Nel gioco Poi Si impone 4-2 Palla Zappata Sotto Chiamato Il fallo Quando si stoppa La pallina Al volo Quando la palla Rimane Inchestrata Tra il campo E l'omino In questo regolamento Si chiama Il fallo LHB 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 Grazie. Che pressione che sta esercitando Placido, veramente instancabile e di potenza. Trova il gol del 5-2. Caruso cosa inventa? Un diagonale, un leggero diagonale a sfaccio con il secondo mino del 2. E poi Placido ancora chiude con un tiro in potenza, 6-3. In questo secondo set al volo tutto lascia immaginare ad una partita finale. Se si dovesse andare alla bella si giocherebbe al regolamento rollerball. 7-3 intanto, un gol, separa la coppia e Bruzzese dalla vittoria di questo secondo set. E Nesta chiude così il gol del 7-4. Cosa sta tirando Placido? Ma cosa sta parando Caruso? Un assedio veramente complesso di riuscire a star dietro a certe velocità. Chiamati tre tocchi da parte di Caruso. Riparte Nesta dal 5, primo acchitto, sbaglia anche il secondo, quindi cambio palla. Tenta il recupero, la coppia Nesta-Caruso. Chiamato fallo tra i tocchi. Riparte Nesta dal 5. Grande fair play in campo, i giocatori date le enormi velocità, comunque discutono tranquillamente dei fatti appena accaduti, trovando sempre una soluzione. Nesta con un flash. Ci credono la coppia Nesta-Caruso. 7-6. E Placido invece chiude il set con una bellissima spiccata dal 5. Uno pari qua dal palè. Di Policoro. Si parte subito con un fantastico ultimo set, terzo set finale, a regolamento Rollerball. Sempre un gol avanti per la coppia Caruso Nesta, che duplica intanto un cambio subito per la coppia abruzzese, dopo il flash subito da Simone Rossoni. 3-0. Intanto grande partenza della coppia Caruso Nesta. Caruso sapientemente aspetta che la pallina si blocchi per poter ripartire. Vedete la partenza nel gioco Rollerball. Una sponda laterale e una sponda dietro e si può giocare. Intanto Rossoni accorcia la distanza con una sponda in mediana. Regolamento ibrido tra il tradizionale del primo set e il volo del secondo set. Gioco tecnico, sì, ma non troppo. Ogni giocatore ha la facoltà di effettuare l'azione con un massimo di tre tocchi, compreso di parata. Grazie. Gol annullato in quanto Dopo il gol di Placido Rossoni Ha sbattuto la mediana Contribuendo così alla rete Tenta prima una cinese sul primo E poi una frusta centrale Grande scontro qua da Policoro Tra La coppia pescarese E Una coppia inedita Mai vista fino ad ora Ai campionati italiani Nesta Caruso Nel frattempo Un buon recupero Da parte della coppia abruzzese Che Dal 3 a 0 si porta sul 3 a 2 E poi recupera completamente Un inizio di partita Un po' travagliato Chiamato il time out tecnico Da parte di Caruso Nesta E poi riparte subito Nesta dal 5 Con Una spiccata a due sponde Parata da Placido Seconda battuta per Rossoni Trova il gol Una bellissima battuta Due sponde Colomino Di sotto Trova il diagonale 4 a 3 Grande recupero e sorpasso Trova subito il parigi Invece Nesta Quattro pari In questo set finale Una grande finale Che decreterà La coppia campione d'Italia La coppia campione d'Italia E trovano Il punto d'incontro I quattro atleti in campo E Nesta Nello scontro in mediana Trova Il quinto gol Il sorpasso Per Nesta Caruso Straordinaria partita Chiama Nesta Un po' in ritardo Un fallo di mediana Tre tocchi Convalidato Da Fabiani Fabiani Convalida La chiamata Del fallo Da parte di Rossoni Che si porta Sul 5 pari Straordinaria partita Straordinario incontro Grazie a tutti Placido non ci sta Chiama Caruso ma l'arbitro convalida il fallo riparte Nesta dal 5 Chiama Caruso ma l'arbitro convalida il fallo riparte Nesta dal 5 Chiama Caruso nel momento del bisogno trova una sponda dalla difesa 6 a 5 Rossoni sfortunato una bellissima battuta che va sul palo la palla torna Nesta che chiude il settimo gol Un attimo di concentrazione da parte della coppia pescarese 7 a 5 match point per la coppia Nesta Caruso Sesto gol Tentano il recupero Placido e Rossoni E lo trovano Si andrà per il doppio vantaggio E intanto Rossoni e Caruso ironizzano sulle grandi prestazioni I grandi gesti sportivi che stanno eseguendo Che stanno dimostrando a tutti Rossoni, Simone si porta avanti Nominando Mattia Romano Un grande spiccatore dal 5 E poi con un grande gol dalla mediana Placido quasi non ci crede Bellissima partita Vincono il campionato italiano Di doppio Ricordiamo a tutti un like Una condivisione per questi atleti Per aiutare il canale e il Calcio Balilla Qui da Policoro Grande, grande spettacolo in campo Complimenti a tutti e quattro gli atleti Un saluto e alla prossima da Calcio Balilla24